Elimination is will be double. Eight elimination, the first eight elimination will be double. E intanto siamo partiti, quindi sono già i primi secondi di questa finalissima e già si va in accelerazione, si prende tutta la strada. Francia in prima posizione, si cercano ovviamente le migliori posizioni ed è Belgio, Francia inside for French and outside for Belgio, Francia in prima posizione ed è Barswing outside. due treni in questo momento, interni e esterni, ai meno 44. Barswing in poor position in this moment, in second place for French, Cile, Ecuador, this is the first position in this moment. ed è il duo belga a fare l'andatura. Colombia all'interno, Colombia inside in this moment. 43 laps to go, Colombia leading in the race in this moment. eight warning, eight number eight warning, numero otto ammonito. Siamo al passaggio dei meno 42, ricordiamo sono quindici mila metri ad eliminazione. Corà, Colombia ring the bell now, 42 laps to go. Siamo nel vivo della gara, abbiamo sentito la campana Germania. Portogallo, Portogallo, Portogallo inside for Colombia, Colombia inside. Very high the speed in this moment, veramente alta l'andatura per questa prima eliminazione. Si va all'eliminazione doppia, double elimination on the line. 420, 423, 420, 423 eliminated, 4-0 and 4-2-3. Leading in the race in this moment for Belgium inside, for Colombia outside, for France. Italy in 4 position, 5 in this moment, ring the bell, 40 laps to go. Ed è ancora Bart Swings in prima posizione, ed è Colombia. Colombia che al passaggio della campana vanno sempre in testa, stanno attuando questa tattica al momento i Colombiani. quindi il duo della Colombia, 39 laps to go, elimination, double elimination in this moment. 122, 119, eliminati. 122, 119, 1-2-2, 1-1-9, eliminated. Ed è Bart Swing in second place, in first position, Jason Sottil. In prima posizione, in seconda il duo belga, poi il duo colombiano, poi vediamo l'Italia con Bramante. Ancora restano invariate le prime quattro posizioni, si va all'eliminazione, double elimination, double elimination, doppia eliminazione. Squabbles in the middle of the pack in this moment, si sta alzando anche la temperatura dentro la gara. 158, 4-138, 158, and 4-38, eliminate. 36 laps to go, and Italy leading in the race in this moment, then Colombia in second place. 277, 2-7-7, warning, 277, ammonito. 35, i giri, doppia eliminazione, double elimination. Numero 20 e numero 312, number 20 and number 312, eliminated. Ed è ancora accelerazione, ai meno 30, ancora accelerazione. Germania, Italia, Colombia, Belgio, Messico. Svizzera, Portogallo. Sono 26 atleti rimasti al momento. 26 left skater in this moment in the race. Che si stanno contenendo il titolo mondiale di questa specialità, senior man, 15.000 eliminazioni. Ano da accelerazione for this elimination. Siamo ai meno 30, 33 laps to go, elimination. Numero 280, numero 312, number 280, number 280, number 280, number 280, and number 9, eliminated. the previous left. 280, number 280, and number 280, and number 280, and number 280, stop skating, please. Francia in this moment in this moment in the first position, then Germany, Italy, Belgio. Al passaggio sarà eliminazione, elimination on the line for the skater, 31 laps to go. Ed è eliminazione al passaggio. 396, e 135, 3, 9, 6, and 1, 3, 5, eliminated. 30 laps to go, 23 left skater in this moment. Sono rimasti 23 gli atleti in pista in questo momento ancora Germania all'interno, Portogallo all'esterno. Ed è Portogallo che adesso prova a mettersi in prima posizione al passaggio. Sarà eliminazione. Ancora Germania, Portogallo, Belgio. Adesso guardiamo nelle retrovie perché si va all'eliminazione dei meno 29. Intanto al passaggio saranno meno 28. Numero 23 e numero 54, number 23, and 54, Almanetti. Ed è ancora la Germania in prima posizione con Felix Rienen. Numero 135, stop skating, please. 135. 21, sono ancora 21 gli atleti in pista e ancora Germania. Number 54, stop skating, please. Il minero. numero 8 e numero 160. Numero 8 e numero 160. Numero 8 e numero 160. veramente alta l'andatura. Numero 23, stop skating. Numero 8, stop skating, numero 8. ed è ancora Germania, Belgio, Belgio, a fare l'andatura. Tiene alta l'andatura, l'atleta della Germania. 25 left to go, elimination. 2-0-2, 2-0-2, 2-0-2, stop skating, please. Siamo scesi a 24 giri al passaggio, 18 atleti rimasti in gara. Niels Bühleman, stop skating, please. Niels Bühleman, stop skating, please. Dankeschön. Abbiamo sentito la campana, il meno 24. Ancora Germania, Francia, adesso in seconda posizione, adesso all'Inter. Manuel, stop skating, please. 160. 160. Eliminazione al passaggio del numero 20, bro. Manuel, sta eliminato. Stop. Eliminating now, 3-3-2. Presento, 32 eliminato adesso. Eh! Manuel, taido. Stop, 30. Eliminazione al passaggio del numero 22, 22 al passaggio. Ed è Italia, ganso a tenere la terza con Bramante. Abbiamo sentito la campana, ma è Mark Twizio per aver verso. 1-3-2 warning, 1-3-2 warning. 1-3-2 warning, 132 ha molito. Siamo al passaggio del meno 21. Abbiamo superato la metà gara. Ed è eliminazione al passaggio. 440, 4-4-0 eliminated. 4-4-0. Ed è Italia in questo momento a fare l'andatura con Bramante, poi Colombia. Dove essere poi Francia, Belgio. 20 laps to go. Leading the rain this moment for Italy, Colombia, Francia, Belgio, Francia, Ecuador. 340, 4-4-1. Number one, six, zero, disqualified. Number one, six, zero, disqualified. Stanno eliminando il Gagnardo ultimo! Bole, bule, bule, bule! E intanto 19 laps to go. Colombia. Leading the rain this moment. Colombia in then, in the third position for Francia. 193 eliminato, 193. Ready, ready. 13 minuti di gara è andata, ora, Colombia in first position, outside for French, leading the race for French, outside for Portugal, 17 laps to go, elimination. Number 365, eliminated, 365. E sono 14 gli atleti in questo momento, ai meno 16 al passaggio, ed è Belgio, Belgio-Colombia, poi Italia in quinta. Marco, Marco Lira, you've been eliminated last lap, sta eliminato all'ultimo betta, grazie. Ancora Belgio-Colombia-Italia, poi Francia, adesso Cile, prova Cile, tacks behind the fifth position, si mette dietro in quinta posizione, la treta del Cile, quanta passaggio siamo a meno 15, ancora eliminazione, eliminazione al passaggio. 277, 277, 1190. 15 minuti di gara è andata, sono 13 gli atleti rimasti in quindici minuti. di gara, tredici atleti rimasti per questo titolo mondiale, senior man, quindici mila eliminazioni al passaggio intanto del divino che porta gli atleti all'eliminazione. il numero 28, il numero 28, il numero 28, ed è il numero 28, Belgio eliminato. Siamo al prossimo passaggio di meno 12. 19. 19 warning, 19 warning, numero 90, ammonito. 19 warning, abbiamo sentito la campana, ed è ancora Cile. Quando al passaggio siamo ai meno 11 e sarà ancora eliminazione al passaggio. adesso. 374, 374, 374. Lidio Wenger, la Svizzera a lasciare il tracciato. Sono dieci gli atleti rimasti in gara. e al passaggio meno 10. Sono meno 10. Ancora campana. Si alza la. No elimination. No elimination. No elimination. No elimination on the line. No elimination. Siamo ai meno 11. No eliminazione al passaggio. No elimination. ed è ancora 10 pattinatori rimasti in gara al passaggio dei meno 8 quasi 18 minuti di gara si accelera adesso nuovamente in rettilineo per fare l'andatura ed è l'atleta del paraguai mirena in prima posizione che è da diversi giri a fare l'andatura mirena paraguai poi francia belgio still in the rest this moment for paraguai ancora un altro giro in testa per l'atleta del paraguai elimination elimination sono 9 gli atleti rimasti in gara 9 atleti stiamo arrivando alla fine di questa entusiasmante finale ai meno 6 si lecce più go bar swing in first position poi il duo francese in seconda e terza posizione 19 minuti di gara 9 left skater in this moment sono rimasti appunto 9 gli atleti bar swing in prima posizione a controllare poi francia francia colombia germania portogallo e adesso un'altra accelerazione per bar swing e un'altra eliminazione eliminazione al passaggio 206 duecento side 206 andrà la germania a lasciare la strada in questo momento ancora bar swing in point position in this moment for bar swing ed è otto otto gli atleti in gara in questo momento otto atleti siamo ai meno quattro venti minuti di gara ancora belgio a controllare la gara ed è belgio francia francia poi colombia portogallo cile paraguai sono gli otto atleti rimasti in gara in questo momento e ovviamente si va ad accelerare l'uscita di curva ai meno 3 perché siamo all'eliminazione elimination 363 363 1180 sono 7 gli atleti rimasti anche se nel gruppo maesiano in sei ed è bar swing bar swing due leps to go due leps to go due leps to go per bar swing belgio due leps to go per bar swing belgio in second place in the first position in this moment belgio francia colombia in side for taking the third place for francia and we have another really strong acceleration for bar swing one left to go one left to go bar swing belgio 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 veramente alta l'andatura in questo momento guarda dietro bar swing per il belgio sono gli ultimi due concurve si va allo sprint last bit for belgio francia colombia si va allo sprint si va allo sprint si va allo sprint e dei boss wicks belgio bell xem belgio l Grazie a tutti.